Forse non tutti sanno che Federica Panicucci ha un ex marito molto famoso, che è il padre dei suoi figli, chi è? Federica Panicucci oggi è serenamente innamorata del suo nuovo compagno, Marco Bacini, stimato imprenditore milanese Prima di lui, però, è stata sposata e il suo ex marito è un volto famoso proprio come lei La conduttrice di Mattino 4 ha avuto un importante matrimonio, da cui sono nati i suoi due figli Ma chi è il marito di Federica Panicucci? Quando annunciarono la fine della loro relazione fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan della coppia Adesso entrambi hanno voltato pagina e la conduttrice media seta è serena con il suo nuovo compagno Chi è l'ex marito di Federica Panicucci? Federica Panicucci è stata sposata per nove anni con Mario Fargetta, storico DJ di Radio DJ I due si erano conosciuti proprio in radio nel 1996 e sono convolati a nozze nel 2006, un anno dopo la nascita della loro prima figlia Sofia Nel 2007 è nato il loro secondo genito Mattia.Nel 2015 la coppia ha deciso di separarsi praticamente dopo una relazione durata quasi 20 anni Pare che la decisione di mettere fine al loro matrimonio non abbia sotteso battaglie, erano entrambi molto dispiaciuti, ma consapevoli che la loro relazione fosse ormai finita Assieme hanno due figli, motivo per cui sono rimasti in buoni rapporti È stata proprio Federica Panicucci tempo fa in un'intervista a Verissimo a raccontare come lei e Mario Fargetta abbiano sempre avuto rapporti sereni e tra di loro non ci sono mai stati momenti davvero critici Ha spiegato che la decisione di separarsi era stato un passo compiuto da due persone mature, dettato dalla volontà di entrambi di far stare bene i loro figli Oggi vivono entrambi in armonia per il bene di Sofia e Mattia ...è stato un passo da persone mature, con l'obiettivo di far stare bene i nostri figli Da qualsiasi parte la si guardi, la separazione è un dolore Noi abbiamo provato a costruire un'armonia per fare stare bene Sofia e Mattia ... queste le parole della Panicucci a Silvia Toffanin Fargetta è uno dei DJ radiofonici più conosciuti d'Italia, ha una lunga carriera colma di successi alle sue spalle, in cui ha creato le versioni dance dei più celebri brani italiani, da quelli di Giovanotti a quelli degli 883 ...